Buon pomeriggio dalla redazione del Tg della Mobilità. Ancora sei giorni di stop tra le stazioni di Arco di Travertino e Ottaviano sulla linea della Metropolitana. Una chiusura straordinaria iniziata il 14 agosto dopo tre giorni di stop dall'11 al 13 tra Nagnina e Suba Augusta per i lavori di rinnovo dei binari. Nel tratto interrotto tra Arco di Travertino e Ottaviano il collegamento è garantito dalla navetta bus. Regolare invece il servizio dei treni sulle tratte Metro Ottaviano-Battistini e Arco di Travertino-Anagnina. E oggi la linea bus sostitutiva sarà attiva sino all'1.30 di notte. I lavori sulla metro A nella tratta Anagnina-Ottaviano sono iniziati nel luglio dello scorso anno. Il cantiere in corso in questi giorni di agosto, spiega Atac, si svolge su una porzione di binari in posizione critica, in aree limitate e spazi incompatibili con una riapertura quotidiana. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.